Io ho l'opportunità e il privilegio di lavorarci insieme tutti i giorni e è una mente straordinaria. Ma, anziché, siccome noi abbiamo il nostro lavoro, è un lavoro di emozioni, anziché parlare di informatico e di job, mi piace fare questo paragone. Direi che Glenn Jensen è per il network marketing quello che i Beatles sono stati per la musica. Glenn Jensen! Grazie. Grazie a tutti. So, I find myself thinking more in Italia now. Adesso sto cominciando a scoprirmi e certe volte penserai di un italiano. Tutto il tempo parla con noi. La scorsa settimana ho avuto il privilegio di essere in Colombia dove abbiamo premiato, fatto il riconoscimento, due nuovi diamanti. Un diamante one star e un diamante two star. Nella storia di Agile, questa è la prima volta che abbiamo dei diamanti in Colombia. E non ne abbiamo una, adesso ne abbiamo addirittura due. Questa è la ragione perché ce li abbiamo. Diventare diamante è una decisione. È solamente questione di deciderlo. È soltanto settare, orientare la vostra mente a diventare diamanti. Circa due mesi fa, io, Patrizia, Alberto, John Rochon Junior, John Rochon Senior, eravamo tutti quanti in Colombia. Abbiamo avuto un buon evento con circa due o tre cento persone. Ok, eravamo lì tutti insieme per un evento di circa duecentocinquanta persone. Agile non è la prima volta che sta in Colombia, è stata lì in Colombia da molti anni. The people, Sergio and Carlos, have been in Agile for many years. E gli stessi due diamanti, Sergio and Carlos, sono stati in Agile da molto tempo, da molti anni, non è il primo anno che ci sono. They joined and they got to about a director level. E loro non andavano oltre il livello di director. Quando siamo stati in Colombia, insieme hanno preso la decisione di diventare diamanti. They said to me at that time, Glenn, if we reach diamond in October, will you come back? E mi hanno detto, Glenn, se noi facciamo il diamante in ottobre, tu tornerai qui in Colombia? So I said, yes. Ho detto sì. Of course. Chiaramente sì. Not somewhat believing, but not fully believing that I would be going back. Non è che non gli credevo, però profondamente non ero convinto del fatto che ce l'avrebbero fatta. But together they worked. Ma hanno lavorato insieme. And about every two weeks they would call and say, are you ready to come back? And I would say, yes, yes, hit diamond and I will come back. And I would say, yes, yes, hit diamond and I will come back. But during that time they worked very hard. In questo tempo hanno lavorato molto duramente. They followed Alberto and Patricia's system. Hanno seguito il sistema di Alberto e Patricia. And because they made the decision to become diamond in October, Sergio hit two star and Carlos hit one star. E siccome avevano preso quella decisione di diventare diamanti in agosto, in ottobre sono diventati diamanti. Sergio hit two star e Carlos hit one star. This was very remarkable to me. Questa è stata una cosa che mi ha molto impressionato. To be able to go back and recognize them as diamonds. Perché sono tornato e come promesso li ho riconosciuti come diamanti. Perché ci sono alcune cose da considerare. Number one. Prima. For those of you in the room who have been in Agile for a long time, but you're not diamond, it is possible to hit diamond. Prima cosa, per molti di voi che sono stati Sony in Agile da molti anni e ancora non sono diamanti, beh, la notizia è che si può diventare diamanti. Right? So, for instance, Stefano signed a letter last night. I will hit diamond. Per esempio, al scorso weekend Stefano, Narcetti ha scritto, ha firmato una lettera che ha dato a Glenn dicendo Io sarò diamante prima della fine dell'anno. Right? I'm still waiting for the call. E sto ancora aspettando che mi chiami e mi dica sono diventato diamante. Still waiting. Ancora sto aspettando. But with Stefano, with Luca, 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 also said, I will hit diamond. Anche lui ha detto, voglio essere diamante. And many others. E molti di voi anche. Quindi per me è incredibile essere in una stanza in cui ognuno di voi possa prendere la decisione di essere diamante. La leadership che c'è e si respira in questa stanza è incredibile. E francamente sono onorato di essere qui con voi. Quando io stavo facendo il check-in per la cruciera, ho visto così tanta gente arrivare che ho riconosciuto. E mi sono detto, sì, sono qui con gli amici. Quando sono andato poi al banco registrazione, ho detto, mamma mia, ci sono Paolo e Silvia. E anche Patrizia. Che stavano facendo il check-in anche loro. E mi ha impressionato il fatto che i nostri top diamond a livello mondiale della compagnia fossero lì per aiutare le persone a fare il check-in, a registrarsi. Questo è incredibile. Facciamo un grande applauso per il grandissimo riporto del bambino. Per me questo è stato veramente sbalordito. Cioè arrivare e vedere i top leader stare dietro a una scrivania a registrare le persone. And right after that, Mattia walked up with a camera. A un certo punto è arrivato Mattia con la sua solita camera. And I said, oh Mattia, I love you. Mi ha detto, Mattia, ti amo. When I was in Colombia, we had hundreds of people at the event. Quando ero in Colombia, avevamo centinaia di persone all'evento. But we did not have a Mattia. Ma non ci avevamo Mattia. And that made all the difference. E questo fa la differenza. È incredibile. Ok, on this cruise, I am so excited to get to know you. Allora, durante questa crociera, non vedo l'ora di conoscere le storie di ognuno di voi. To hear your story, to meet you. Sentire le vostre storie ed incontrarvi. Quando Agile è cominciato, il primissimo evento che abbiamo avuto è stata appunto una crociera. Si erano qualificati per la crociera a 25-30 persone, perché erano all'inizio, chiaramente. E quindi quando sono andata in questa crociera, eravamo all'inizio, non conoscevo la maggior parte di questi leader. Ma durante la crociera, poi, li ho conosciuti e ho parlato con loro. E siamo diventati amici. E durante tutto questo tempo, sono rimasto amico con loro. Ho seguito loro, le loro famiglie, sui social media, su Facebook. E li ho sempre considerati amici. But they also came on to become diamonds. Most of them became diamonds in Agile. E molti di quei 25-30 sono diventati diamanti di Agile. So of that first group, many became diamonds and they've continued their success. Quindi molti di questo primo gruppo, molti sono diventati diamanti e hanno continuato il loro successo. So going back to the way I started this, to become diamond is a decision. Quindi ritornando al punto iniziale del mio discorso, diventare diamanti è esclusivamente una decisione. As I look around the room, se guardo intorno in questa stanza, I recognize many faces. Riconosco molto delle facce, sono familiari. I know many people by name. Conosco molte persone dal loro nome. But more, I recognize faces that I've seen in the crowd at the training weekends and different events. Ma la maggior parte che riconosco dalle facce che ho visto nella foglia nei training weekend e negli altri eventi a cui ho partecipato. I recognized and watched each person as they spoke. Ho riconosciuto e visto ogni persona da come parla. I listened to it and remember that and think of your families and think of what you were trying to do, the success you were trying to achieve. E quindi quando vi ascoltando, mi vengono in mente le vostre famiglie, quello che magari avete detto sul palco, quello che avete fatto per raggiungere il successo. E sono molto contento di quello che ancora potete ottenere e raggiungere. I too wanted to celebrate and recognize our two new diamonds. Allora voglio anche io riconoscere e celebrare come gli altri i nostri nuovi 3 star diamond. Yeah, in Italy. Congratulazioni. 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 Conoscere Lorenzo, Damiano e tutti gli altri Bidese. I don't know if Maximo e Saveria sono qui. No. No? Okay. From the Bidesis, it's amazing to me to see a family come together and grow. Perché? Perché mi piacciono tanto? Perché vedo i Bidese come una famiglia che lavora insieme e cresce insieme. I listen to their story. I watch them walk down the stairs in the back of the room and walk to the front. Ho ascoltato le loro storie sul palco. Mi ricordo quando siete scesi per la vostra celebrazione di diamanti dal dietro alle scale e siete arrivati con una passarella sul palco. I watch Damiano go up and present mi ricordo benissimo Damiano che vi ha presentato sul palco. I watch the emotion happening between them. E mi ricordo molto bene l'emozione che c'era in quel momento sul palco. Luckily I was in the back so that was... Anyway. Lui era dietro, eravamo un po' nascosti. In effetti qualche lacrimuccia ci è scappata anche a noi. But it's amazing. So keep up the great work and congratulations. Congratulazioni e continuate così a lavorare e fare questo grande lavoro. e ringrazio, come il primo come Fabrizio Simona. E ringrazio e Simona. And the back, Fabrizio e Simona. And the back! Simone e Simona per me rappresentano i leader silenziosi, ve l'ho scritto anche io. Sono leader silenziosi, vuol dire che si muovono in punta di piedi, ma sono sempre vicini per aiutare le persone. They seem as happy congratulating you on your success than on their own. Sembra, l'impressione è che siano più contenti quando fanno le congratulazioni agli altri per il loro successo piuttosto che ricevere loro per il loro successo. But I see them as great support to the entire organization. E li vedo come un grande supporto per l'intera organizzazione. They made the decision to become Diamant. Loro anche hanno preso la decisione di diventare Diamanti. Loro hanno preso la loro strada, decisione mentale, di diventare Diamanti e di farlo indipendentemente da tutto quello che gli poteva succedere intorno. E per me è molto emozionante arrivare in Italia, stare in crociera con voi, spendere, passare del tempo con voi, soprattutto in queste circostanze in cui abbiamo i nuovi Diamanti. So Fabrizio e Simona, thank you. Grazie, Fabrizio e Simona. For everything that you do. Per tutto quello che voi fate. Very proud of you. Sono molto orgoglioso di voi. You are amazing leaders. Siete leader incredibili. Thank you. Grazie. Allora, io sono molto contento di essere qui perché sarà una crociera straordinaria. Non succede spesso di poter venire e passare un'intera settimana con voi. Non è spesso di poter venire e passare un'intera settimana con Albert e Patrizia. E anche per voi non è comune spendere un'intera settimana con Albert e Patrizia. o Paolo e Silvia o Dino o Damiano o Damiano e tutti gli altri Diamanti presenti in questa sala. Allora, quindi approfittate di questa circostanza. Approfittate del fatto che loro sono qua. Facciamo in modo di conoscerci un po' tutti. e facciamo in modo di avere una vacanza bella, incredibile, ma anche produttiva. In closing, in chiusura, facciamo in modo di prendere molte fotografie e poi facciamole vedere. Se le mandate a Gary Hassan, possiamo postarle nella pagina ufficiale di Agile. Perché voglio vedere, voglio che le persone nel mondo vedano cosa siamo capaci di fare insieme. E anche voglio chiedere a ognuno di voi, voi siete qui per una ragione che vi ha portato qui. Quindi, per favore, concentratevi e prendete la decisione di diventare Diamanti. E cercate il vostro partner, ovvero qualcuno che vi possa aiutare a raggiungere questo obiettivo, che vi possa spingere, che vi possa sostenere nel cammino. Perché quello che ho visto nella mia carriera è che le persone che raggiungono i risultati lo fanno perché hanno qualcuno vicino a loro che gli aiuta a raggiungere questo risultato. Grazie mille a tutti. È un piacere essere qui. Vi amo a tutti. E vi ringrazio profondamente. Grazie. Grazie. Allora. Allora, altre due informazioni? Per favore riempite, intasate la casella...